Sono arrivati nel porto di Roccella Ionica altri 48 migranti di nazionalità iraniana, irachena ed egiziana, soccorsi dalla guardia costiera a largo della costa della Locride. Tra loro ci sono anche 5 minorenni e 3 donne. Successivamente è arrivato un altro gruppo di migranti di nazionalità pakistana, composto da 45 uomini e 2 donne. Questo gruppo era a bordo di una barca a vela a circa 85 miglia a sud-est della cittadina Ionica. Altri 35 migranti di nazionalità bangalese erano stati fatti sbarcare nel porto della Locride dopo essere stati individuati e soccorsi dalla guardia costiera a circa 20 miglia a sud di Capo Spartivento. Entrambi i gruppi sono stati temporaneamente ospitati nella tensostruttura allestita nell'area portuale in attesa dei controlli sanitari e amministrativi. Nelle ultime 24 ore a Roccella Ionica sono sbarcati complessivamente 170 migranti.